Benvenuti alla timora del terrore. E' elegante come al solito. Boh, grazie per il minuto. No, no, è vero, tanto stai stando su. Aspetta, non metterai di un momento. Ok, tutto al basso, non so perché laghi. Dove essere perduto quello che ho perduto. Ho perduto il personaggio, ragazzi, vedete che tolgo il mio personaggio. No, non lo vedi, ah, è vero. Iniziamo. Gli invece lascio un nuovo personaggio. Ah, no, non mi sembra la carta di tanto. LOL! E' bello. E' quello di Bioshock, sembra. Non so. Ecco perché mi piace. Oh, non mi trovo. Guarda che arve, è abbastanza difficile. Ah, è giusto, è vero. Concentrati. Guarda quanti. Guarda quanti. Guarda quanti. Guarda quanti ce ne sono. 49 dove sono tantissimi. Io andrei al trader, io mi abbi, mi abbi verso il trader, perché quando mi piace. Io non muoio, no. Davide, non mi sta... Stammi vicino. No, Davide, stammi vicino ti ho detto. Uuuu. Uuuu. No, mi hai lasciato già solo. Stammo morendo. È difficilissimo. Guardami dietro, guardami dietro. Uuuu. Uuuu. Oddio. Guardalo. Se a volte guardo la telecamera, ragazzi, è perché sto... Uuuu. Ma dimmi, ti ho detto guardami dietro. Sei un... Sei stupido. Uuuu. 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 Guardami dietro, ti ho detto. Guardami dietro. Ok. Se a volte guardo la telecamera è perché voglio vedere se sono in filmaggio. Ma non cura nulla, Einhard. Ma dai. No. Come no? Mi ha curato solo... Cioè, 10 di vita. Eh, bomba, no? No. Quelli con l'accetta. Quelli con la spada tipo boned, no. Ti prego. E' hard, Dio santo. Nell'erba, 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 la cosa più stupida che si possa fare. Ok. Vai al trader! Vai verso il trader! Semplice andar verso il trader! Semplice andar verso il trader! No, finito le munizioni! Ah no, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Riguardami sempre attorno, che io posso... Dai, questa partita... Come la potresti chiamare questa partita? Ma... Epic Boss Epico vs Psydraker Slowweb. Eh. Scherzo. Vabbè, il livello di difficoltà, ripetiamolo... E' hard, non è lo nerd, perché come si è visto quel gameplay di web bomber che caricherò... Eh. Non è stata una buona idea. Come si tira le granate, che ho solo quelle? Beh... G. Ce n'è uno! Lo so! E' hard, oh, se gli zomini... Eh. Mi arriva dappertutto, ma sembrano secche! C'era, ho il coltello o no? E' l'unica arma che mi è rimasta, vedi un po' tu il coltello o no? Un po', cerca di droppare qualcosa in giro per il trader se c'è. No, ma non mi hai detto che c'era quello! Ah, non l'avevo visto. No! Eh! Ma che... Oh, cacchio! Oh! Scena epica! Coreografia dei... Degli zombie! Dai! No, non ho più neanche... Non ho più granate! No, vai di coltello! Sei un pazzo! Devo droppare munizioni! Non è che le droppi, che le devi darmi del trader e ci saranno qua... Ci saranno qua... C'è qualcosa, vedi? Dove sei? Sì, forse da dentro c'è qualcosa... Corri! Non c'è niente! Ah, stai facendo qualcosa di... Sì! Questa salvezza! C'è un altro dietro! Dove? No! 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 Se ne vai! Oddio! Oh! Guardami dietro tu, eh! Sì! Non hai niente dietro! Prima partita in cui Epic Boss è pawned! Power! Ok, non c'ho più... Ho finito! Ho finito! Devo prendere quelle lì! Devo prendere quelle lì! Devo... Devo... Devo prendere quelle munizioni... Sarà complicato! Dov'è che erano? No! Eh, vai in avanti! Guardami dietro! Non c'ho mica quelli che corron tipo... Per power, eh! No! Ecco! C'è lei lì! Ne mo... Prendi e scappa, eh! Prendi e scappa! No! Non ti è portato a caldo! Carica! No! Aaah! Non si può! Potevi dirmelo prima! Sto sfondando le mie vite! Aspetta ti dico quante sono! Uno! Due! Sono dieci, li vedo, li vedo, li vedo Vedo sopra il numero Nove e dieci Cazzo sei bravo Matteo Ah no è vero, c'è il numero sopra Ecco Eh ho finito di nuovo Io li vedo dall'alto Ho finito di nuovo le munizioni Vado giù di coltello ma crepo Vai giù di coltello Oddio ma io sto posto non l'ho mai visto Credo che in hard cambia un po' Tutto anche il trader Che giù Io andrei giù di coltello ma mi sembrano un po' troppini Per andare giù di coltello Ma si sposta Ma si ma guarda che siamo in hard Qui ti mangio le budella Dove sei? Boh appena esco da sta erba Vado giù di coltello è la mia unica Possibilità Aspetta Aspetta voglio fare il freddo Fai un commentary Fai un commentary Guarda che adesso ci sarà una scena epica No ci sono gli cheftoni Ci sono gli cheftoni Qui finiamo Munizioni Dove sono altre? Ah già Sei qui Oddio no Non me ne fa prendere Uuuuuh Ma paura dietro No Ok carico Ok devo prima Obiettivo da uccidere cheftoni Quelli lì che sembrano gli cheftoni Ma io bruciano Ok va Devo risparmiare munizioni Ok quelli là Guardami dietro Guardami a fianco eh Sì sì Dio gli sto buttando Adesso ha fatto Ho uccido l'ultimo cheftoni E ho vinto in pratica Oddio dimmi che c'è da un fianco Mi ha fatto venire un infarto Ma se sono 4 Oddio E la somma qui siamo in hard Eh Ho ucciso Ho ucciso Ho ucciso Oddio Vai Bravo Sono power Sono un pro Quale tempo sarà trascorso Non lo so Adesso vedo 8 minuti Solo per il primo round Dio sangue 8 minuti Attenzione Vado al trader E mo mi Mi prendo delle bestemmioni di armi Perché qui finiamo malissimo Eh sì già Ehi non posso prendermi niente Ti smomitazzo dei soldi Se riesco Prima fammi prendere Per un'arma buona Bomba Axe prendo Cosa prendo Non so Oddio ma sta finendo il tempo Già Sì E' pochissimo il tempo Per pensare qua Per pensare Bella youtuber No che bella youtuber Eh sì Io la faccio Ah giusto Bella youtuber Riprenderemo subito Addio No che bella Grazie a tutti